Ciao Giovanna, ciao Gio, ciao Ale. Si sente la voce? Si, 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 penso che ti fa per Шарапплиng di parte di parte di pune. Sao? Ci percezione la montagna Grazie. Ma c'è anche la doccia. C'è, ma non funziona. Così? Ah, sì, sì. Ciao Giovanna! Ciao Alessandro! Qui va sotto le scarnate. Questo è lo scappuccino. Ma è sotto le scarnate che vanno sopra. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.